I dati sono sempre più importanti e fondamentali per lo sviluppo delle imprese. Le imprese nel mondo odierno non possono fare a meno della conoscenza di dati di varia natura, ma soprattutto nella gestione, nella capacità di leggere i dati, della conoscenza dei dati stessi. Quindi viviamo l'epoca dove il dato e il contenuto diventa elemento fondante e fondamentale per lo sviluppo delle imprese e soprattutto per portare la conoscenza delle imprese ai mercati. Quindi sempre più dobbiamo sviluppare questa capacità di lettura dei dati e soprattutto dobbiamo sviluppare sistemi virtuosi che portino dati e informazioni alle aziende stesse. Certamente direi tutti i dati che riguardano la clusterizzazione dei mercati, quindi la capacità di capire chi sono gli utenti, quali sono i bisogni dell'utenza stessa, capire come sono segmentati questi dati e soprattutto questo tipo di utenza. Ma mai come oggi è importante anche tutto ciò che riguarda la conoscenza dei mercati internazionali. La piccola impresa italiana è un'opportunità enorme, quella dell'internazionalizzazione, ma questa si riesce a fare nel momento in cui l'impresa ha conoscenza di dati, ha conoscenza ovviamente di opportunità in vari territori di sviluppo e di ricettività dei propri beni e servizi e questo è un elemento che può aiutare le imprese italiane alla crescita. Questo è molto importante, così come è molto importante la collaborazione che gli imprenditori devono dare. Questa è una questione di cultura d'impresa, l'imprenditore deve mettersi, in qualche modo deve aprirsi, deve mettersi in discussione ma deve mettere anche in trasparenza i propri dati perché attraverso questi porta beneficio alle imprese in generale e a se stesso soprattutto. Quindi abbiamo bisogno di un'interazione e in particolare abbiamo bisogno di una continua attenzione ai dati ma soprattutto ai nostri dati come imprese che devono essere elemento fondativo per una conoscenza anche da parte delle altre imprese.